ben ritrovati su reviewing you oggi vado a recensire qualcosa di insolito si tratta di un supporto per il bagno pensato appositamente per chi magari non volesse effettuare dei buchi sulla parete o sulla piastrella per non rovinarlo comprato in questo caso proprio per non bucare le piastrelle del bagno e quindi ho optato per questa soluzione comprato su amazon la marca e venco pagato 18 euro e 80 se non erro scontato adesso è sui 20 euro ma potete comunque dare un'occhiata quando c'è lo sconto ma il prezzo è davvero competitivo link in descrizione vado a far vedere brevemente si compone di questo materiale che è presumibilmente un acciaio inox vediamo la base d'appoggio che devo dire risulta essere comunque solida e stabile come vedete dimensioni dimensioni abbiamo circa 54 centimetri 55 centimetri e mezzo considerando la base di appoggio poi altezza della base d'appoggio comunque quasi due centimetri e si monta semplicemente con una vite che inclusa si monta questo pezzo e poi si abita con questa parte sembra essere in plastica in plastica anche la parte dove c'è un scovolino il gabinetto e poi scovolino incluso veramente utile secondo me per chi appunto non volesse bucare la piastrella qua si mette il rotolo di carta igienica e poi dall'altra parte resta lo scovolino del gabinetto se avete qualche domanda ma non penso ce ne sia bisogno ponetemela pure e il link in descrizione di amazon vi do appuntamento alla prossima review